Non è incredibile che il rignoro d'anzia ci ha evitato a poco! Non dirsi ragazzi! E con chi? Con le belle? Signori, siamo qui. Dopo... Ve lo faccio vedere, perché non lo so neanche io. Dopo... 130 ore, approssimativamente, di gioco, qui con Cyberpunk 2077, platinato. Ce n'è voluto? Ce n'è voluto perché mi sono addirittura creato un altro account per arrivare al livello 16 di forza, di fisico, e al livello 49 di reputazione stradale per prendere il cyberware cuore sintetico, mi sembra si chiami, per poter fare un trofeo. Io sono qui per farvi semplicemente vedere un po' quello che ho fatto, il mio V, il mio personaggio, e un po' quello che ho, quello che non ho, quello che sono riuscito ad ottenere, la mia... il mio skill tree, eccetera. Allora, questo è ciò che ho a livello di skill tree, 12 di fisico, 12 di atletica, 12 di indentamento e 10 di lottatore da strada, perché non l'ho sinceramente mai usato. Riflessi, 16, con maxate, pistole, assalto, le lame, no, perché, vabbè, non usate moltissimo, ma è un confronto al resto. Capacità tecnica, con creazione a livello 18, ingegneria a livello 12, capacità tecnica, albero di liquidità, che più ho utilizzato, anzi, adesso vi faccio vedere anche quello che ho sbloccato senza rimanerselo fuori, che più ho utilizzato, assolutamente, quello che mi ha portato ad essere broken come character, davvero, veramente, devastante, devastante, questo albero delle abilità, se avete la pazienza di livellare creazione, veramente arrivate a fare robe, armi pazzesche, potenziarvi veramente tantissimo, quindi è veramente pazzesco, è davvero, davvero pazzesco. Qui sono abbastanza un ibrido, per quanto riguarda i riflessi, come vedete, ho livellato un pochino assalto, abbastanza le pistole, da quando ho preso la Malorian di Johnny, perché volevo utilizzarla, e quindi ho potenziato questo albero, e l'ho portata anche da tipo livello 6 al livello 16, e le lame anche leggermente, qualche cosina, perché volevo usare le lame da mantide, mi piacciono veramente molto. Per quanto riguarda il fisico, vabbè, l'atletica, ha giusto dei potenziamenti di base, senza andare troppo oltre, in realtà, non è neanche preso come una farfalla, che potrebbe essere in realtà molto utile, poteva essere molto utile, ma nulla di che, ho fatto robe abbastanza standard. Per quanto riguarda nientamente, vabbè, qualche potenziamento per il fucile a pompa, principalmente, perché l'ho utilizzato per un po', anzi, l'ho utilizzato molto, ma anche questo, nulla di eclatante, molto poco, l'ho tradastrata assolutamente nulla. Intelligenza al 5, vabbè, l'ho usata davvero poco, giusto all'inizio, per fare giusto qualche cosa, ma davvero poco poco poco. Freddezza al 20, non per furtività, ma per sangue freddo, che è l'albero delle abilità che ho utilizzato, che ho completato di più, con, anche chiaramente qui, spietato, che è l'ultimo, il livello massimo, infatti, ho portato al 20, anche proprio sangue freddo, mentre, scusate, non vi ho fatto vedere furtività al 14. E, sangue freddo, altro albero delle abilità che per il combattimento deve stare sgravatissimo, non fondamentale, se vi potenziate un sacco con, anzi, non è fondamentale di base, però, potenziandovi già di base, con la capacità tecnica della creazione, non è qualcosa che mi è, sinceramente, utile più di tanto, perché siete già fortissimi, ma in realtà vi potenzia in maniera assurda mentre combattete, del tipo che la mia armatura, che qui a vedete essere a 3.204, sale a qualcosa di tipo 8.000, quando vado a combattere, sale la resistenza, la velocità di attacco, salgono un sacco di cose, veramente è un albero veramente fortissimo, ma fortissimo, fortissimo, che vi permette davvero di fare un sacco di danni critici in più, di fare un sacco in più di danno, è veramente, veramente forte. E ho scelto così di farlo, perché mi andava, niente di che. Mi ero scritto che avrei voluto raggiungere questa tipologia di albero a livello 50, quando ero al tuo primo livello 20, intorno a livello 20, forse qualcosa in più, intorno al 23, 24, 25, una roba così, e effettivamente l'ho rispettato, forse ho cambiato giusto un po' fisico, volevo arrivare al 14, poi ho messo 16 riflessi, forse una roba del genere, ho cambiato qualcosa poi alla fine, ma me l'avevo già prefissata, mi avevo già costruito un personaggio all'ora per arrivare a questo punto. Al livello di creazione, ragazzi, niente di che, ho disponibile un sacco di roba da potenziare, da creare, questo vabbè, è chiaro, ho un sacco di componenti, in realtà non più, non più, perché ho potenziato, come vi ho fatto vedere poco fa, il... giusto, giusto, non ho più tanti componenti, perché vi stavo dicendo, ho potenziato un botto, il... qui, vi faccio vedere, fino a leggendaria, l'armatura di Johnny, cercando di avere degli slot per le modifiche decenti, cosa che sono riuscito ad avere, ed è veramente forte, è veramente, veramente un'ottima roba. Adesso, vengono duplicate quando le potenziate a livello leggendario per il semplice fatto che sono oggetti di missione, nonostante io abbia finito tutto, quindi non saprei, però comunque 686 di armatura, per dire questo, con, chiaramente, le modifiche, le modifiche sono quelle che... è ciò che fa il... il di più, e quindi... vabbè, chiaramente, lo potenziate è veramente, veramente forte, questo outfit è veramente devastante, ed è, credo, la cosa più dispendiosa in termini di componenti per la creazione, potenziarlo. Avevo calcolate 1200 componenti epici quando ho potenziato questa... prima di potenziare l'armatura di Johnny, e l'outfit di Johnny. Quindi ero veramente altissimo come crediti, e qui, vabbè, questo è il fucile... Madonna mia, quante... quante armi... corpo a corpo, vabbè, dovrei buttare. Il fucile di Smasher, credo sia veramente... se non la più forte, una delle armi più forti del gioco, ma è... una roba veramente fuori da ogni possibile immaginazione, anche perché spari colpi esplosivi è fortissima, ma l'abbiamo già provata, nel finale originale del walkthrough, e questa è l'arma, un'altra arma che adoro, il Widowmaker, ma l'abbiamo già utilizzata, avete avuto modo di vederla. E qui, c'è la mia armeria, con tutte le armi sbloccate, vi ho già detto che questo, purtroppo, è lo slot per la pistola di Jackie, che c'è, è qui. è qui, la cingona dorada, ma non la mette, non so per quale cazzo di motivo, l'Archangel me la riprendo, perché ce l'avevo nell'inventario prima di rimettere la lega, adesso avete visto, anche la Malorian, però, purtroppo, non la mostra, questo è il posto per l'Archangel, che vi ho fatto appena vedere, questo è il posto per l'Archangel, che adesso mi sono ripreso, la riequipaggio, l'Archangel, che è la pistola di, che è Riurdaen, molto forte, ragazzi, veramente drastante, più forte addirittura, molto più forte, della Malorian, ma fa più danno, perché vabbè, è un revolver, mentre la Malorian è una pistola, sono proprio due cose diverse, e Katana di Saburo, scusate, di Yorinobu, e qui ci sono tutte le altre, le altre armi, per quanto riguarda la mappa, chiaramente, avendo io, avendo platinato il gioco, non c'è più, perché ci sono dei trofei necessari, cioè, è necessario farlo per dei trofei, non c'è più nulla, di fattibile, assolutamente, a livello di attività, è completamente pulita, la mappa, e per quanto riguarda, appunto, anche gli incarichi, vedete che ho soltanto a finale di gioco, anche se l'abbiamo già finito, l'ho già finito, tre volte, moltiplicato per due, praticamente, vedendo anche gli altri finali, con Johnny che rimane, eccetera, quindi, un casino va, vero, trovate tutto chiaramente qui sul canale, avrete già visto, cioè, avrete visto che c'è tutto, e qui sono tutti gli incarichi, scorrere, fino in fondo, riuscendo a leggere, richiederebbe un botto di tempo, perché c'è tanta, tanta, tanta roba, c'è tanta, 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 tanta roba, i miei pareri sul gioco, ragazzi, io ve li ho già detti, sul gioco in generale, mi astengo, non mi astengo, ve li ho detti nel corso, in corso d'opera, e per il semplice fatto che, non voglio alimentare, una visione che non è la mia, ovvero quella di odio totale di questo gioco, l'ho platinato, e l'ho giocato 130 ore, quindi è evidente che non sia la mia visione, ciò che più ho apprezzato di questa storia, scusate, di questo gioco è la storia, come vi ho già detto, che penso sia la più bella, che io abbia giocato in un GDR open world, tralasciando, immagino che molti che hanno giocato The Witcher 3, possano dire che cazzo dici, perché so che molti hanno apprezzato, non l'ho giocato ancora, ce l'ho, l'ho iniziato, ci ho giocato addirittura 40 ore, ma è successo talmente tanto tempo fa, che non ricordo letteralmente niente, non 30 ore, no, 40 ore, 30 tipo, e sono andato un po' avanti, ma non ricordo davvero, niente di quello che ho giocato, quindi sarebbe da rigiocare, lo farò sicuramente, ce l'ho con tutti i DLC, l'ho preso, l'ho ripreso con tutti i DLC, quindi assolutamente sarà qualcosa che farò, però tra quelli che ho giocato, ragazzi, questo a livello di storia mi ha davvero soddisfatto, mi è davvero piaciuto moltissimo, e a livello di gameplay anche a me è piaciuto, la cosa che più mi ha dato fastidio, ve l'ho già detto, è l'intelligenza artificiale, non tanto dei nemici, quanto della folla, dei pedoni, qualcosa che devono mettere a posto, e spero mettano a posto, dovrebbero mettere a posto, e spero mettano a posto, perché è qualcosa veramente di scandaloso, e che veramente toglie molto all'immersione del gioco, ho giocato alla versione PS5 in retrocompatibilità, quindi non la migliore delle esperienze, non la peggiore, questo poco ma sicuro, io sono assolutamente, mi ritengo assolutamente fortunato di avere una PS5, perché so che tantissimi l'aspettano, e c'è un casino della madonna, ma io capisco quello che provate, perché nonostante che io abbia la PS5, ho prenotato una 3080, che non so mai, non so quando arriverà, quindi, per chi sa che cosa sta succedendo un po' con il mercato dell'hardware PC, e soprattutto della nuova serie Nvidia, quindi voi dite, sì, vaffanculo, però tu almeno la PS5, sì, avete ragione, assolutamente, e io infatti mi ritengo fortunatissimo, però dall'altro canto, capisco, la frustrazione, perché vorrei avere anch'io sotto mano, il mio pezzo d'hardware, e vorrei poter concludere, la mia nuova build, vorrei poter giocare a questo gioco, una seconda volta, usando V femmina, utilizzando, facendo un personaggio diverso, furtivo, un netrunner, che gioca, per giocare più furtivamente, e sul hacking, con il retracing attivo, sparato veramente, al massimo, se non al massimo, comunque, a livelli molto alti, in risoluzione nativa, 1440p, vorrei godermi davvero questo gioco, per quello che potrebbe offrire, perché graficamente so che è una bomba, e vorrei davvero vederlo, perché io, sapete, io ci tengo tanto alla grafica, in quello che gioco, mi piace molto avere un gioco davanti, davvero bello da vedere, proprio bello, 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 e questo potrebbe esserlo, ancora di più, molto, molto, molto di più, di quello che abbiamo visto, qui, ma tantissimo, ragazzi, veramente, a un altro livello, e quindi, non vedo l'ora, come non vedo l'ora, di giocare a Red Redemption, sparata ultra, su, su PC, con un framerate, che non è bloccato a 30, che non scende a 20, a Saint Denis, anche questo, potrebbe essere, un, davvero qualcosa di, di spettacolare, non vedo l'ora anche di giocare a quello, non vedo l'ora di giocare a Control, con il Ray Tracing, a, tanti FPS, cosa che, io ce l'ho qui, chiaramente era gratuito, e ho la, la Ultimate Edition, perché era gratuito appunto, per Next Gen, su PS5, però vorrei aspettare, di poterlo giocare su, su, su PC, con il Ray Tracing attivo, a, a un framerate adeguato, e, e non qui a 30, no capite, perché poi si può, chiaramente c'è anche la versione a 60, però, avendo prenotato una 3080, aspetterei, di giocarlo così, ma, ho tanti giochi, che voglio ancora portare, qui, e, abbiamo, tanta roba, qui, questo, qui, questo, lui è qui, solo perché mi è venuto in mente di platinarlo, non so che cosa abbia in mente questo periodo, con il platinare le cose, non ne ho idea, però visto che è fattibile, mi mancano 20, 79 trofei, sono veramente tanti, però visto che, potrei farlo, e, dovrei guardare ancora bene, ma potrei farlo, e quindi mi piacerebbe farlo, e, poi c'è, vabbè, questo lo stiamo giocando, questo lo giocherò, lo porterò assolutamente, e, anche, anche la, la Nathan Drake Collection, io non ho giocato mai, Uncharted, raga, spoiler, anzi, sì, l'ho giocato, tipo, mezz'ora del 3, perché ce l'avevo un mio amico, e, vorrei giocarlo tutto, semplicemente, soprattutto, Uncharted 4, ma riprendere anche la saga, rigiocherò questo capolavoro, e, anche, assolutamente, rigiocherò questo capolavoro, eh, già portato sul canale, ma lo riporterò, forse con commenter, forse no, ma, sicuramente, su PS5, 60 dps, eh, risoluzione mentale, eccetera, rigiocherò, giocherò anche Ratchet & Clank, un, un, un pilastro della mia infanzia, e, che, non ho giocato, su PS4, e quindi, giocherò qui, e, e vorrei, tanto, anche, platinare, un giorno, nella Sovaz parte 2, so che non è, impossibile, non c'è, non è così difficile, in realtà, sicuramente più difficile di altri, sicuramente più difficile di un nuovo Spider-Man, Miles Morales, o anche di questo Spider-Man, più lungo, dispendioso di tempo, e di, di, di fatiche mentali, eh, però mi piacerebbe, perché, sendo il mio gioco preferito, eh, vorrei farlo, e, comunque, sono contento, signori, io vi, vi abbandono, e, spero che questa serie vi sia piaciuta, mi è piaciuto questo gioco, tanto, al di là di tutto, mi è piaciuto tanto, e, spero possano mettere a posto, tanti di quei problemi, tanti di quei bug, fastidiosi, che ti constringono, magari a caricare un salvataggio, di perdere quell'ultimo quarto d'ora, dieci minuti che hai giocato, che, pesa, pesa tanto, soprattutto se succede una, se succede tante volte, spero possano sistemare l'intelligenza artificiale, davvero, perché, rompe davvero l'immersione, in alcuni casi, più spesso che, che, che no, e, e spero davvero possano fare un gran lavoro, eh, oltre a quello che hanno già fatto, perché, hanno fatto, una gran roba, ma devono, eh, costruire, davvero ancora molto, da queste, da questo, da quello che hanno già costruito, da quello che hanno già creato, quindi, spero, eh, ci riescano, io, confido, eh, nella serie di Project Red, e, e niente, signori, non sto qui a dirvi ogni cosa, particolarini, minchia, sia a livello 25, se fate un personaggio, di un certo tipo, avete rotto il gioco, il sistema ruolistico è debole, potete rompere, eh, appunto, il sistema di, ruolistico del gioco, avendo un, un personaggio di, di che spacca i nemici, anche a livello, anche a difficoltà molto difficile, appunto, intorno al livello 25, 30, sì, è vero, l'ho fatto, io stesso, avrete visto nei finali, che non cercavo neanche copertura, correvo in faccia i nemici, e perdevo 1, 2 HP, si fa, si può fare, tranquillamente, e non serve il livello 50, basta il 25, tra il 25 e il 30, si riesce a fare, non c'è assolutamente alcun problema, nel farlo, il problema è che si può fare, e che si può rompere questo sistema ruolistico, che non ci sono dei nemici, con delle difese appropriate, che ti costringono ad adottare un, un certo approccio, non c'è un nemico con un'armatura molto pesante, magari che, che, magari rifletta addirittura i proiettili, no, capite che gli sparate dei proiettili, e lui riesce a rifletterli, anche c'è, in realtà, un cyber psicopatico, che fa una roba di questo tipo, ed è molto figo quello, ma non ci sono più nemici così, che magari riflettono i vostri colpi, e quindi siete costretti, magari, ad utilizzare un altro approccio, magari l'hacking, e se voi non siete specializzati in quello, potrebbe essere veramente, un buco nel culo, no, è un dito forse, nel culo, nel buco del culo, e, il, e, uccidere questi nemici, e magari non riflettere proprio tutti, i, i colpi che sparate, però no, vabbè, di questo tipo, non ci sono questi, queste, queste tipologie di nemici, è qualcosa che manca, ma, insomma, non voglio stare qui a dilungarmi troppo su questo, perché, non, non mi va, e, io vi saluto, e saluto anche Cyberpunk, perché direi che posso prendermi una pausa, dopo averci giocato, 130 cazzo di ore, e aver fatto tutta sta roba, platinato, io direi che posso prendermi una bella pausa, salutiamo il nostro avviso insieme ragazzi, bello del zia, bello del nonna, ti saluto amico mio, abbiamo fatto tante robe, ho anche scelto il finale, a mio parere, il finale originale del walkthrough, migliore tra quelli che ho giocato, secondo me, anche quello di Panama è tanta roba, ma quello di Roy mi è piaciuto molto, particolarmente, per una serie di promesse fatte e mantenute, tanta roba, io vi saluto ragazzi, bello.